Cosa c'era in quella corsa dopo il gol, in quella corsa sfrenata? Cosa c'era tanta gioia e un'emozione pazzesca perché poi faccio un gol ogni quattro anni più o meno di media e quindi farlo in una partita come questa sotto lo sud, ringrazio Dio veramente perché mi ha dato questa gioia, perché è veramente forte. Adem, era stabilito che lo tirassi tu in rigore? Era deciso che lo tirassi proprio tu in rigore oppure avete deciso lì? Ah, avevamo deciso lì perché io si sentivo bene, ho già tirato la rigore, ho già tirato la rigore in qualche compagno, ma non si può fare bene. Non ci abbiamo sfruttato queste volentilità, avevano due o tre punti, come ho detto, con alcune cose sia lì che sia lì che sia lì che noi. Loro è un momento forte perché sicuramente nella partita c'è il momento buono, è un punto più difficile delle scuole. Loro è un momento simile e socialmente non c'è lì che noi ci abbiamo trovato, e quindi questa sera noi portiamo a giocare tutto il nostro cammino, sicuramente con le infortuni con tutti i nostri giocatori che non sono in espressione, questo non è un momento che non c'è l'opportunità, come ho detto, con quanti operativi, non c'è l'opportunità, non c'è l'opportunità. Sicuramente quando credo che l'opportunità c'è sempre delle cose, ma non c'è l'opportunità Possiamo comprare con il futuro, con l'attivista e con tante voglia di rivincita, ma non per questa partita, ma di vincere la prossima partita. Giochiamo in tre giorni, ma questo è anche una partita.